Cambia il modo di firmare su Netflix da ora? È possibile usare qualsiasi browser. Per iniziare andare nel menu Studio, Impostazioni Netflix e scegliere se firmare con l'applet Java, ossia il metodo vecchio, o Java Web Start, il nuovo metodo. Con la chiavetta per la firma digitale inserita, costruiamo un deposito, ma la procedura in realtà vale per qualsiasi fase di firma o di sincronizzazione. Intanto vediamo un esempio di una firma di un deposito, costruiamo il deposito come facciamo sempre. E al momento della firma verrà scaricato un file che dovrà essere fatto partire. Facciamo partire il file e poco dopo ci verrà chiesto il PIN. Una volta inserito il PIN, ripremiamo sul deposito che abbiamo costruito e possiamo fare il nostro Creabusta e spedisci.